A parte che questo farro ha un aspetto, un ottimo davvero aspetto, e credo che sia fatto con il polpo, con il pesce, no? Sì, sì. Allora, io la mia versione del farro è una versione di farro con del pecorino, del castelmanio, diciamo, parliamo un po' più di pecorino che è qua, di questa zona, un po' di fave, verdi, pochetti di prosciutto e anche qualche petto di quaglia. Questa è la mia ricetta di olio, ovviamente, e un po' di erbe, ed è questa la mia ricetta di quel farro.